La storia è tristemente nota. Il corpo senza vita di Edi Copes, 17 anni di sorico, fu ritrovato dalla madre il 9 febbraio 1982 dopo un'intera notte di ricerche a pochi metri da casa. Tre gradi di giudizio hanno definito come il ragazzo benneurtato da un mezzo in transito mentre camminava a margine della statale regina. Una tragedia insomma, la famiglia però negli ultimi 31 anni non ha mai smesso di cercare un'altra verità. Solo la sera prima di morire Edi rivelò alla madre di avere paura, aveva ricevuto dei maltrattamenti, aveva fatto il nome di chi gli aveva dato un contachilometri da montare sul suo motorino, contachilometri però proveniente da una vespa rubata. E questa è la versione per cui la madre si è sempre battuta, il ragazzo sarebbe stato malmenato a morte e non travolto, urtato. In queste ore la novità, il corpo di Edi Copes la scorsa settimana è stato riesumato dal cimitero di Sorico, non per un'imminente riapertura del processo come vorrebbe la madre, bensì perché sono scaduti 30 anni previsti dalla legge. L'occasione è stata però propizia per cercare tracce utili alla verità, confidando anche sulle ultime tecnologie. La riesumazione è stata rivelata dalla giornalista Anna Fiume che sta dando alle stampe un libro sulla storia di Copes. Già nel titolo si offre una posizione chiara sulla vicenda, mi hanno ucciso 30 anni fa, sottotitolo Edi Copes, delitto o incidente. Dai dati a disposizione, dice la giornalista, l'incidente è da escludere in modo netto, qualcuno volle dare a Edi una lezione ma fu calcata un po' troppo la mano. Grazie a tutti.